Amici di intertv.it bentornati da Michele Borrelli alla video rassegna di questa domenica 5 luglio Inter protagonista sulle prime pagine dei quotidiani sportivi con la telenovela dell'estate tirata in ballo anche dalla Fiorentina un po' per i capelli ma la commenteremo una notizia in questa data storica per il calcio italiano il 5 luglio di 33 anni fa e nel 1982 l'Italia batteva il Brasile con la tripletta di Paolo Rossi e poi si sarebbe laureata campione del mondo l'11 luglio al Bernabè uno stadio che ha portato naturalmente bene anche all'Inter il 22 maggio del 2010 tra l'altro il 5 luglio una giornata che porta fortuna all'Italia perché non solo col Brasile ma anche 12 anni dopo nel 94 la selezione allenata dal CT a Rigosacchi pareggiò all'ultimo minuto contro la Nigeria gol di Roberto Baggio e i supplementari batte proprio i nigeriani poi però quella volta l'Italia non lo vinse il Mondiale perché si fermò davanti al Brasile i calci di rigore però torniamo a noi torniamo all'Inter la gazzetta sportiva mercato voci dal Cile la società bianconera nega l'intesa tra Vidal e il Real si scrive Vidal è sempre più Real la Juve si scalda intanto per Oscar vedete qui Oscar e Vidal il giocatore cileno che insieme a Gary Medela Alexis Sanchez e a tutto il Cile è in festa perché il Cile è campione del Sud America ha battuto l'Argentina davanti al proprio pubblico ai calci di rigore dopo lo 0-0 gli errori di Higuain e di Banega decisivi in Inghilterra intanto sono certi il City ha i soldi per l'assalto a Pogba quindi questo è il mercato della Juventus che rischia di perdere addirittura anche Pogba e Vidal dopo Pirlo o anche uno tra Pogba e Vidal vedremo come finirà intanto la gazzetta analizza tutti i sogni e gli affari di questo calciomercato come sta nascendo la nuova Serie A Darmian e Peresi più richiesti del Toro Chievo spunta Bonera l'Inter in primo piano perché ha il sì del Chelsea ma parte la diffida viola Salah scontro totale eccolo il giocatore egiziano che in questo caso festeggia con la maglia della Fiorentina però qui è scontro totale dopo l'accordo con l'egiziano i nerazzurri stringono anche col club londinese per 20 milioni vicenda chiusa? no la Fiorentina denuncia avete trattato un giocatore sotto contratto e bisogna avere il riscontro anche perché noi continuiamo a dire la Fiorentina ha firmato una scrittura privata che ormai è stata resa pubblica in cui si impegnava a lasciare a Salah l'ultima decisione non vuole accettare la decisione appellandosi a dei cavili legali che al momento non possiamo dire se sono giustificati perché magari può essere che l'entourage o l'avvocato o il procuratore di Salah non ha depositato in Lega però la sostanza è che la Fiorentina aveva dato a Salah la possibilità di non scegliere la Fiorentina dal primo luglio Salah non la sceglie ma la Fiorentina non si vuole rendere partecipe di questa decisione non se ne vuole fare una ragione magari anche per giustificare davanti ai propri tifosi per far vedere di essere una società che non viene scelta da un giocatore importante va allo scontro ormai contro i mulini a vento perché se la prende con una società a terza dicendo che contatta il giocatore perché lo dice? Perché il procuratore ha detto che interessa all'Inter e alla Roma da altre squadre perché sui giornali si scrive che l'Inter è interessata a Salah venerdì Mancini ha detto che non ha mai sentito Salah o la Fiorentina ha qualche prova concreta oppure sì di fidare non c'è un comunicato ufficiale vedremo che cosa vorrà dire di fidare dire alle altre squadre che non si può trattare un giocatore sotto contratto è vero ma l'Inter non lo tratterà mai con la Fiorentina perché l'Inter lo tratta solo se torna al Chelsea quindi adesso bisogna capire tra Fiorentina e Salah chi ha ragione sicuramente la Fiorentina non avrà il piacere di avere Salah tra le sue fila quindi io credo che anche sia i tifosi che i dirigenti dovrebbero aspirare ad avere un giocatore contento di essere di vestire la propria maglia di club andiamo però al Tour de France perché cominciato con Nibali forma Tour chiude la crono davanti a From la prima trappa va all'australiano Dennis che realizza la media record e tra l'altro il siciliano da 7 secondi a rivale quindi 15 a Contador Vincenzo c'è meglio del 2014 l'analisi di Pierre Bergonzi anche la Formula 1 in Gran Bretagna Hamilton una pole da leone Ferrari in ritardo terza fila e per quanto riguarda la palla a volo azzurre show Belgio travolto oggi Turchia andiamo a vedere anche in taglio basso altre notizie sempre dedicate al calcio come la Roma e Totti atto numero 24 a lavoro oggi in raduno della squadra di Garcia dopo il Milan e l'Inter dopo la Samp che è stata la prima lo scorso ormai 30 giugno sono passati già 5 giorni il capitano a quasi 39 anni vive una nuova avventura in giallo rosso e non è detto che sarà l'ultima pallotta gli ha dato libertà di scelta Totti che è il sogno di giocare nel nuovo stadio della Roma ma dovrà giocare almeno per qualche anno per realizzare questo sogno Milan e Sharawi alla Di Maria il progetto e poi nuoto Super Pellegrini nei 200 vede il podio iridato e ancora Stati Uniti Giappone il mondiale di calcio che appunto si gode la finale più bella il mondiale naturalmente di calcio donne Stati Uniti che hanno battuto l'Inghilterra 2 a 0 dopo aver rischiato il Giappone che batte 2 a 1 l'Inghilterra e adesso in finale sarà proprio Giappone contro Stati Uniti Federer avanza intanto nel tennis per quanto riguarda Wimbledon andiamo a vedere anche il Corriere dello Sport prima del caso Salah Juve decisa quadrado sì ma in prestito poi vedremo anche il parere di tutto sport che imputa a Murigno la volontà di non cedere il giocatore al Juventus il Milan cerca un centrale e Maximovic del Toro vedremo dopo il no di Godin chi il Milan prenderà per quanto riguarda la difesa al via la Roma tra dubbi e lacune offerta per Zeko c'è stata l'ammissione di Sabatini che appunto ammette Zeko ci interessa attenzione a dirlo caro Sabatini magari arriva la denuncia da parte di qualche società non si può esprimere un'opinione la Lazio stringe Milinkovic il vero obiettivo e per quanto riguarda invece il Napoli missione Sarri recuperare subito Amsic Salah e Bufera Firenze denuncia l'Inter ecco ora si è partiti con la lite quando non c'era la lite se arriva la diffida si parla di denuncia vedremo dove andremo a finire sui titoli contro l'Inter intanto i della Valle diffidano i nerazzurri per i contatti con l'egiziano ed è pronta la lettera pure per la Roma Suarez ausilio in Spagna e giustamente Tohir tratta Iovetic a Londra questo l'aveva scritto due sere fa il Corriere dello Sport che poi però dice che l'Inter prende Salah ne può prendere solo uno contemporaneamente dice che ausilio è Spagna per Suarez e la Fiorentina che diffida l'Inter questo è il quadro per quanto riguarda la telenovela dell'estate vedremo come finirà intanto Iguain tradisce trionfo Cile Argentina battuta i rigori Coppa America alla Roja per la prima volta la nazionale cilena Nibali già vola i big tutti dietro quindi parte alla grande il tour del campione dell'anno scorso proprio del Tour de France via il Tour Dennis in giallo e per quanto riguarda la Formula 1 Gran Premio a Silverstone Ferrari male pure le Williams vanno meglio quindi brutte notizie per la casa di Maranello la rossa di Maranello tutto sport lo United Sudarmian sprint toro per Belotti in regia il prescelto è Cigarini quindi anche lo United Sudarmian dopo il Napoli si parla di una offerta intorno ai 15 milioni di euro lettera ufficiale dalla Fiorentina Inter Salah diffida Viola e c'è l'offerta per Perisic quindi si parla anche di mercato sugli esterni Perisic l'offerta dell'Inter come vi abbiamo detto più volte con un prestito oneroso e l'obbligo di riscatto il Wolfsburg che però nella figura del suo DS Allofs ha prima chiuso e poi lasciato uno spiraglio dicendo che c'è tale affollamento che permetterebbe al Wolfsburg di mantenersi competitivo anche con la gestione di alcuni giocatori però dall'altra parte dice non so se conviene all'Inter economicamente prendere Perisic lo sapranno benissimo all'Inter Quadrado Murigno Lanti Juve Marotta ribadisce il colombiano in prestito può venire da noi ma il tecnico del Chelsea antico nemico dei bianconeri per ora ha dato mandato di cederlo a titolo definitivo Gerson affretta la Juve un sogno Giallo Vidali i cileni parlano di accordo con il Real è simpatica anche qui l'interpretazione che Murigno antico nemico dei bianconeri per ora ha dato mandato di cederlo solo a titolo definitivo solo per non darlo alla Juventus questa è l'interpretazione intanto alle 17.30 la prima amichevole dopo 5 giorni di ritiro la Samp di Walter Zenga scende in campo inizia la nuova stagione con le tante amichevoli di luglio l'Inter sarà attesa all'11 dalla prima amichevole con una rappresentativa tedesca dello Stoccarda poi Stoccarder Kickers il 15 contro il Carpi quindi la prima avversaria di Serie A e poi con la partenza per la Cina da Shanghai Inter Bayern Monaco il 21 poi il Milan il primo derby della stagione il Real Madrid il 25 il 27 poi il ritorno in Italia è agosto con i primi impegni ufficiali quest'anno il campionato inizia presto il 22 apre quindi la Samp Cassano Bis Zenga frena intanto c'è stata la chiamata aggiungiamo noi di Antonio Cassano a Walter Zenga c'è un altro ex interista che si sta per accasare potrebbe essere vicino al Genoa Jonathan il Genoa fa il test a Jonathan l'ex interista e gli auguriamo in bocca al lupo e se è la sua volontà di trovare spazio ancora in Serie A dopo il Parma anche il Genoa per Jonathan quante incognite la Roma riparte oggi ma è già in ritardo quindi molto critici con la Roma da Tutto Sport e infine dall'International Verona e in arrivo il brasiliano Vinc Stadio Milan spunta l'ipotesi sesto se il portello non sarà il prossimo territorio o quartiere che ospiterà lo stadio del Milan casa Milan oltre a casa Milan anche lo stadio il Milan si rivolgerebbe a sesto ormai sono i giorni decisivi per quanto riguarda il ballottaggio finale tra il Milan e l'altro progetto in competizione per appunto quell'area per quanto riguarda il progetto stadio l'Inter interessata in prima linea perché se il Milan ottiene il via libera l'Inter avrà via libera a sua volta per un San Siro un Meazza tutto nero-azzurro vedremo come si procederà verso il no al progetto del portello Berlusconi dirotta fuori città intanto si continua a sognare Ibrahimović e poi sia il ciclismo che la Formula 1 come negli altri giornali Gambero-Ferrari e Crisi d'estate l'abbiamo visto Fettel in terza fila e poi infine dietro le Williams di Bottas e Massa per quanto riguarda il ciclismo il via del Tour de France con Nibali o Nibali come dicono in Francia è già super e fa paura a tutti nella tappa contro il tempo vinta dall'australiano Denis Vincenzo è andato più forte dei diretti concorrenti e vuole dimostrare subito dimostra appunto di essere in gran forma come si era detto anche alla vigilia per la rassegna stampa di questa domenica 5 luglio è tutto buona Inter a tutti e buon ritiro a Riscone di Brunico si parte per la montagna e quindi auguriamo un buon ritiro ai giocatori dell'Inter a tutto lo staff arrivederci intanto con tutte le videonews e con la videorassegna di InterTV punto it è tutto i prossimi appuntamenti dalla prossima settimana ricordo anche che per quanto riguarda Riscone di Brunico avremo gli speciali tutte le sere dalle 20 in poi quindi telefoni aperti ma anche sms whatsapp per vivere il ritiro giorno per giorno dal 6 luglio a lunedì a presto a presto a presto a presto a presto